e adesso invece cambiamo pagina come abbiamo annunciato prima martedì 9 giugno aspetta che controllo luglio sbagliato infatti parliamo di teatro e passo la linea al nostro giornalista indipendente che sta parlando male di me alla nostra ospite indipendente anche lei matilde faccheris non era facile dirlo e questo invece non l'ho sbagliato buonasera matilde e buonasera caro ivangrozzi carissimo carlo buonasera un grazie sì con le date lui è fortissimo il giorno che si sposerà sarà interessante sapere che giorno indicherà come esisterà come data delle nozze e vedere appunto chi arriverà direttamente sì no probabilmente farà così matilde faccheris abbiamo detto giustissimo è con noi per parlare del suo lavorare stanca lavorare stanca assai è davvero e forse per non dirlo a noi lavorare stanca davvero tanto ma anche tu in scena ti dai molto da fare uno spettacolo di un'ora e un quarto in cui balli canti racconti come nasce questo spettacolo allora nasce circa tre anni fa dall'esigenza di fare uno spettacolo sul lavoro di base ho rubato il titolo a pavese che in realtà all'inizio c'era la sua poesia che è bellissima però poi si è persa via nel tempo rimane la citazione rimane la citazione nasce da dal fatto che io sono stata mollata a causa del mio lavoro questo è l'inizio dello spettacolo così capisce nasce da un bisogno di mettermi in gioco in prima persona rispetto alla tematica perché ho detto sì del lavoro però se non parlo di me attrice non c'ho una lira precaria per eccellenza perché l'attore è un lavoro precario per eccellenza precaria sentimentalmente totale insomma poi però dicevo sì ma di me chi se ne frega no alla lunga ero rimasta in realtà colpita da una vicenda che è quella di france telecom che è successa intorno al 2008 2010 una vicenda drammaticissima che possiamo anche sintetizzare se vuoi rapidamente una serie di suicidi soprattutto da parte di persone circa 50 anni tecnici specializzati che venivano completamente spostati di mansione venivano messi nei call center a fare i centralinisti france telecom è uno degli esempi ma in francia ce ne sono altri e poi vabbè sappiamo che anche in italia purtroppo non è un problema che non esiste e io racconto la vicenda di uno di questi di questi suicidi perché la cosa interessante di france telecom è che molti di loro hanno lasciato messaggi hanno lasciato mail lettere hanno voluto proprio denunciare l'azienda per i sistemi manageriali che aveva messo in atto negli ultimi dieci anni di privatizzazione e io racconto la sua storia correndo perché lui era un appassionato della maratona e allora un po per come attrice per avvicinarmi al alla fatica di lavorare di vivere che questa persona michelle de paris si chiama si chiamava aveva ho pensato che forse potevo correre visto che era una delle sue passioni un po per mettermi al limite anche io e un po per riuscire poi a leggere veramente la lettera che lui ha lasciato in uno stato d'animo che fosse anche soltanto lontanamente vicino a quello che poteva aver provato lui quel giorno lì certo ecco lo spettacolo è stato anche premiato no sì e perché naturalmente c'è questo sforzo di parlare di un tema così importante così interessante fatto anche con l'utilizzo della musica utilizzo anche di sketch che sono di momenti che sono anche leggeri quindi chiaramente poi dopo lo spettacolo ma noi si parla molto di lavoro infatti fra un po' passo anche la parola a Carlo perché lui di lavoro lui fa tanto lo sciocchino ma di lavoro se ne occupa seriamente tutti i giorni e qui si è parlato molto qui si è parlato molto per esempio poi qui in questo festival del fatto che il lavoro non è soltanto la gente non lotta più per avere qualcosa di più di soldi o per lavorare l'ora in più meno a settimana ma lotta proprio per avere più libertà per avere più per vivere la condizione di vita rispetto al lavoro in una maniera migliore cioè per un tenore di vita migliore no sì e poi questo no che anche tu vuoi dire sì infatti l'ultima parte dello spettacolo è tratta da lettere da kirghigia di silvano agosti che è un regista di cinema scrittore nella quale lui ipotizza una città che lui insiste non essere utopica che è kirghigia dove si lavora soltanto tre ore al giorno e il resto del tempo è dedicato a tutto il resto cioè a vivere amare cucinare fare l'amore stare con i figli giocare e boh sarebbe bello ci piace sta città vitellone a noi si lavora tre ore al giorno si fa l'amore si fa teatro si ascolta musica si leggono libri vorrei evitare di dire banalità quindi sospendo il giudizio cioè non lo dico però penso che non lo stiamo facendo durante il festival questa vita qua noi stiamo dormendo tre ore al giorno fare un lavoro che ti piace è già tutta un'altra storia certo che è quello che salva molte persone è certo che davvero quello che salva molte persone ecco tu fai ciò che ti piace lo metti in scena da quello che ho anche letto da dai critici che hanno visto i tuoi spettacoli anche le motivazioni dei premi che avete ricevuto eccetera tu sei molto si dice che sei molto generosa però io mi chiedo ma quando un attore non lo è allora quando si risparmia si risparmia cosa vuol dire un attore risparmiarsi questo che mi chiedo può un attore non come fa un attore non dare tutto quando in scena beh può può si fa un lavoro suo è difficilissimo si è messo lì mesi e mesi l'ha scritto l'ha provato difficile che non si metta in gioco però magari se va a lavorare per una compagnia di giro entra e dice è pronto il caffè forse è forse diverso forse può farlo con un occhio chiuso un orecchio chiuso il lavoro proprio diciamo viene portato con un'altra e questo è interessante per esempio ecco volevo un attimo chiudere con te perché poi fra un po' vai in scena mi hanno anche spiegato che tu senti molto l'ansia del palcoscenico esatto ecco anche uno spettacolo fatto e rifatto proprio che sempre nonostante sia tuo nonostante abbiamo capito che tu si senti molto ma non a tutti io particolarmente i miei musicisti che saranno sentendo dicono di solito ah ma non sei agitata o cazzo allora va male cioè va bene se sono agitata ma ci credo chi ha visto il suo spettacolo mi ha raccontato che lei corre veramente e come una pazza per un sacco in realtà non è come sembra corri tantissimo corri veramente tanto infatti volevo chiederti come ultima domanda questo diventerà un tuo modus di fare teatro visto che tutto sommato è anche per entrare nel personaggio da provare la fatica oppure passiamo questo modo di fare teatro lo proviamo anche su gianni stoppelli che è un altro attore che io conosco che vedrei che anche lui anche lui mi sa che c'è uno spettacolo in cui corre corre si boxa boxa e beh ti metti alla prova comunque è bello fisicamente mettersi in una condizione difficile perché in qualche modo appunto rispetto come risparmiarsi riesci cioè ti metti tu nella condizione di essere un pochino più onesto poi magari non ce la fai però il tentativo è quello la facciamo prendere fiato io volevo farti l'ultimissima domanda che sono curioso anche di questa cosa poi ti lasciamo andare sì e so che tu fai anche teatro nelle carceri vero esatto questo è uno spettacolo coprodotto con la cooperativa estia che lavora al carcere di bollate di milano ti faccio una domanda che so che magari non dovrei farla a te però in generale la faccio perché l'ho posta più volte un'iscussione che è stata affrontata più volte ecco io vedo che ci sono molti laboratori e molto teatro in carcere i carcerati mi chiedo ma quando i carcerati escono poi dopo c'è una continuità oppure poi quando escono la vita loro e quindi se ne occupano loro è raro è raro che ci sia una continuità non impossibile cioè c'è stata non è tanto quello l'obiettivo che diventino attori anche se nel momento in cui lavoriamo con loro è quello quello che gli chiediamo di essere al cento per cento attori però l'importante c'è una cosa bella che dice michelina capato che è la che è la direttrice dei cooperativi e lei dice noi cerchiamo di farne delle persone migliori ma anche dei delinquenti migliori se proprio se proprio mi piace piace anche noi noi ti ringraziamo tantissimo matilde faccheris il suo spettacolo alle 21 e 15 puntuale nello spazio cilistrista correte lavorare stanca più lei che voi voi lo guardate ma lei si darà davvero a fare e avrà da faticare grazie matilde un piacere averte avuta con noi e verremo a seguirti a teatro grazie 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 ciao